Buongiorno, mi chiamo Andella Burta, mi trovo a Milano allo spazio Porpora, ho portato con grande entusiasmo un mio dittico per la mostra che partirà fra qualche giorno, un mio dittico che parla ovviamente di una crescita, una crescita personale, quello che mi rispecchia nelle mie opere, uso spesso i colori metallici, uso la materia e ovviamente parlo di me, parlo di un mondo che è sempre in trasformazione. Questa sono io, quello che si vede, vi ringrazio e buona mostra a tutti. Grazie a te.